L'ultima giornata di andata oppone i nero stellati alla Torrese per un match al quale i Pelini arrivano privi dell'infortunato bomber pendenza rimasto seduto in panchina. Il tecnico Pratolano Saccoccia schiera i suoi con un 4-4-2. Moscone e Ndiaye formano il tandem d'attacco, mentre Verrocchi e Sesani costituiscono il nucleo centrale di una mediana completata dagli esterni Pelino e Puglielli. Dall'altra parte Mister Narcisi si affida in avanti a Maio e Torbidone, mentre a centrocampo fanno legna Petronio e Pietropaolo con Tini e Kruger a Darmanforte. Prima frazione di gara molto equilibrata al quarto d'ora. L'infortunato De Cesaris deve lasciare Lazio Ricci in ambulanza. Al suo posto subentra Dorazio. A metà del primo tempo i nero stellati ci provano senza fortuna con Pelino che angola troppo. La risposta della Torrese arriva con la botta di Tini ribattuta dall'estremo difensore Pratolano Amo. Maio poi viene pescato in fuorigioco. Lo stesso numero uno di casa si fa trovare pronto sulla conclusione dell'attaccante ospite Torbidone, mentre alla mezz'ora è Ndiaye ad innescare Moscone, chiuso però in corner dal ritorno di Kruger. Sempre sull'asse Ndiaye-Moscone i nero stellati ci riprovano, ma il fuorigioco rilevato dal primo assistente di linea invalida il tutto tra le proteste peligne. Prima dell'intervallo la Torrese si ripropone in avanti, ma Maio non riesce a concretizzare la ripartenza ospite. In avvio di ripresa Moscone prova a rompere il ghiaccio dalla distanza, ma il pallone è di poco alto sulla traversa. Val al posto di Ndiaye è il primo cambio operato da Saccoccia. Proprio il neoentrato serve un pallone per Puglielli, che però non trova lo specchio della porta avversaria. Superata la mezz'ora, ancora un cambio per parte. Ricci per Kruger nella Torrese e Iacobucci per Puglielli nei nero stellati. All'ottantesimo minuto ecco il lampo che squarcia l'oscurità sopravanzante con Moscone, che arriva al posto giusto, al momento giusto per l'1-0 di Marca Peligna, che fa esplodere di gioia Lazio Ricci. Nel finale Saccoccia rinforza di Ormeggi, inserendo Filippone in luogo di Verrocchi. Sull'altro fronte Narcisi le prova tutte, mantando in campo anche Bellini per Pietro Paolo. In pieno recupero i nero stellati non sfruttano un contropiede portato avanti da Val e Filippone, mentre la Torrese produce un forcing senza effetti sul risultato finale di 1-0, sancito dal triplice fischio del signor Iba della sezione di Cagliari. Per i nero stellati tre punti di capitale importanza nella corsa alla salvezza, mentre la quinta sconfitta in campionato distanzia dalla vetta la Torrese, che rivolge comunque un pensiero allo sfortunato De Cesaris uscito in barella. Così il direttore generale pratolano Salvatore Zavarella e l'allenatore torrese Luigi Narcisi. Abbiamo giocato alla grande, abbiamo prestato la Torrese su tutti gli spazi, i giovani probabilmente ci hanno dato la brillantezza fisica necessaria per poter effettuare questa partita. stiamo lì, la difesa ha retto benissimo, cercheremo in tutti i modi di fare qualche piccolo ritocco in questa finestra di mercato, perché veramente dobbiamo uscire da questa zona che credo che questa squadra non meriti. A dieci minuti alla fine si è spenta la luce, momentaneamente però quel momento è stato fatale per la Torrese. Sì, l'analisi è giusta, il campo non permetteva di giocare a calcio, perché ovviamente non è stato un bello spettacolo, ma con le condizioni in cui era il campo era impossibile fare due passaggi a terra. La mia squadra in questo fa molta fatica, perché è organizzata per fare un certo tipo di calcio, è abituata a giocare su certi campi, però io penso che da un punto di vista caratteriale la squadra ha dato tutto e quando i ragazzi danno tutto io li difendo nonostante la sconfitta.